Musica Queste le previsioni meteo per domenica 21 aprile. Il cielo si presenterà sereno o a tratti leggermente velato su tutta la regione per l'intera giornata. Le temperature saranno in lieve diminuzione. I venti soffieranno prevalentemente deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari, tra poco mosso e mosso lo Ionio, da molto mossi a mossi gli altri bacini. Queste previsioni sono fornite grazie alla collaborazione con il Centro Meteorologico Siciliano, sigle a cura di AP Web Radio e in Social TV. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS